Sevi le istruzioni ma con quello che sai Quando tu lavori nella cucina, prima di incominciare deve essere sicuro che la cucina deve essere pulita E quando tu incominci a lavorare nella cucina, allora è apprezzato perché la cucina è pulita Quando tu sei nella cucina e devi fare una cosa per cucinare, devi avere la mente a quello che fai Non fare mescolare una cosa con l'altra, sennò non viene bene il lavoro Quando io devo preparare, a me mi piace preparare un cibo per gli amici, i miei figli e i miei nipoti Perché cucinare è una cosa buona, che tu sai quello che ci mette nel condimento Grazie 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 Si Grazie Don't Steven Li Grazie I do not understand. Would you like to try again? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.